La scienza viene utilizzata come mezzo per il controllo sociale, che significa il controllo di te. Sia la scienza che la religione sono state usate durante la storia come il meccanismo del controllo sociale. Le classi dell'elite portarono avanti l'idea che loro sapevano qualcosa che le classi comune non conoscevano, così le classi comuni dovevano seguire i comandi dell'elite. Le elite affermavano che avevano sentito le parole di Dio o che avevano scoperto alcuni misteri della scienza. Così le masse comuni, per la loro propria sopravvivenza e la protezione dovevano seguire la direzione della saggia di Erudita elite. La scienza applicata alla politica è semplicemente...